musica 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 ma sai quella cosa bella della middle storm? cosa? è che non ci lascerà mai per nulla al mondo stare bene la cosa bella è che quel coso li funziona come chunk loader quindi non è che come gli altri modi spuna ci segue e basta ho trovato una casa assolutamente non costruita da una mod che ho messo e che faccio finta di non sapere che in questo modpack proprio qui è una bellissima casa potentissima c'ha anche una porta però che è sbarrata ecco la fisica di minecraft ci permette di passare bene sembra una casa molto vecchia si c'è un libro ah non c'è scritto un cazzo speravo ci fosse qualcosa fogli sono solo fogli niente di che sti bottini sembra qualcosa? come esplode la casa aspetta che magari provo a prendere questa cosa c'è sopra? sembra niente no c'è un'altra scala che porta su oh santo dio per attivare il l'outerstorm ok 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 ovviamente la soul sand ecco il blocco centrale in command block oh no vabbè per avere gli nori di casa stiamo per fare la cosa più stupida mai fatta nel genere umano di minecraft vado vai ok appena lo fai dobbiamo scappare l'ho fatto ci tipperò in un villaggio ok eccoci qua perfetto adesso non so quanto lontani siamo dove eravamo prima bene non troppo credo ma sai quella cosa bella della wetherstorm? cosa? è che non ci lascerà mai per nulla al mondo stare bene la cosa bella è che qualcosa lì funziona come chunk loader quindi non è che come gli altri modi spuna ci segue e basta adesso ci ha portati in questo video oh ok è partita è partita la wetherstorm eh in chi non la vediamo è meglio così ok adesso ci ho portati in questo villaggio per poter prendere un pochino più di risorse almeno siamo un po' più tranquilli come qualche letto magari ok allora ciò che tu che sei la vittima adesso ok devi andare in quella casa là sopra ok e trovare la cassa ok questa era un golo cioè non quella che c'è davanti in faccia si si ho capito questa qua qua dietro si ho una mela le mele tienile perché ci servono ok 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 cassa trovata con l'amuleto ok che amuleto amuleto wetherstorm c'è un numero che sta diminuendo aspetta cosa vuol dire diminuendo non lo so me la puoi troppare please ecco te ok questo non lo sapevo oh cazzo eh mi sa che ok aspetta si sono i blocchi di distanza che abbiamo dalla wetherstorm non credo ah perfetto quindi si sta avvicinando pure vabbè lentamente però lentamente tranquillissima si mi sa che la wetherstorm si sta fermando a uccidere tutte le entità che trova 1175 no no smesso può andare cos eeeh 1200 adesso 1200 blocchi sto ruotando l'amuleto non so cosa sta succedendo eh sta ruotando la moneta cos si lo sto facendo ruotare io perchè ah shift e tasto destro lo ruoti ti segni ancora la wetherstorm e blocchi di distanza si si ok ma è solo keeping inventory giusto per essere sicuri no visto che tanto moriremo molto in fretta con la wetherstorm quando arriva ma ma che cazzo è successo ma mi senti si che cosa è successo ha laggato penso per almeno una ventina di secondi buoni stavo fermo frizzato ah fantastico già ottimo eh son morto grazie gioco sperimenti la vedo lontananza la vedo eh ecco laggiù oh si oh si aspetta è la è la è la è la davanti e niente oh che figo stasso chiaro si mobba adesso vedi è la davanti dobbiamo andare con spada di legno no per niente è ritirata cesso si sta avvicinando velocissimo guarda guarda l'ambuleto non vedo vedo ok no cazzo il mio amuleto sta diventando blu oh cazzo chiedi corri verso di me corri verso di me subito arrivo oh santo dio devo andare in caverna oh mio dio enorme oh santo dio enorme ahia non posso usare la barca qua oh sono in caverna mi sta sparando lo vedo 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 sono in caverna sono in caverna che bellissimo Mario come dire bellissimo no mi ha preso ti sta succhiando no no e mi dispiace non so cosa fare devi vai su gli colpisci la testa però non c'è modo per tornare giù ma pensa se con un colpo lo ammazzo non c'è la spada del legno per forza me di prendere beh disivare a vedere i creeper o sta scappando la mia storia per me sta prendendo tutti gli alberi sono stato succedendo un'area dovrente davanti a lui prova di un colpo oh l'ho preso oh mi ha lasciato eh beh eh si eh è così che bisogna fare cioè è enorme perchè qua sotto non ci può prendere o almeno non può tirarci è il suo raggio è il suo raggio vedi che ha preso il creeper ha preso il creeper o ci sta provando almeno no non lo prendo ok è in cerca di qualcos'altro è in cerca di noi non lo aspetta eh no ops oh oh scusa oh vai vai no aspetta come si faceva allora era così ah vabbè grazie ti avvicino per l'analisi se ne prendiamo altro ecco ecco appunto perfetto io sono pieno di inventario quindi prego perfetto ferro io ne ho 13 quanto ne hai? io ce ne ho 5 da cucinare e 2 cotti ok vieni qua vieni qua vieni qua prendi il tuo amuleto ok e butterò nel cesso fatto perfetto via accendo nel nether ma lui può venire nel nether nel nether no nel nether no almeno che non lo sfumiamo nel nether nooo ma che posso che cavolo comunque spum peggiore allora adesso ascoltami sto per fare una cosa ok ci stiamo per fare una cosa che potrebbe essere potenzialmente pericolosissima parkour però al suo tempo potrebbe darci tanta roba quindi aspetta allora di qua qua davanti la ok c'è o un bastione o una mhm fortezza ok ci dobbiamo andare attento però perchè ti ricordi che ci sono i bruti no? quelli con lascia si si con lascia si che fanno c'è uno shot in pratica così eccolo lì guardalo lì lo uccidiamo? eh per forza guarda la vita che c'hanno qua io oh oh non muoiono c'è c'è uccidere uno così tanto mamma mia oh perfetto quello che ci serve ora resto via resto il tuo regalo grazie mille bam e via speriamo bene che non stiamo sotto lui si portale qua portale ok siamo sotto terra vuol dire che siamo sott'acqua vuol dire che dobbiamo uscire si no che sta diventando notte lo vedo attraverso i chunk ok si eccola si eccola oh cazzo gli è cresciuta la testa ma ha le fasi? si dovremmo tipo essere alla quarta fase su 7 ecco perfetto in piena metodo bravissimo ho un cuore in meno mi è tolto in cuore la malattia devo darci una mossa ok ma gliel'erò wow hai fomentato fuorro dello paro non volevo mai diventare ma ho questo potere ho bisogno di cibo io però eheh c'ho un po' di carta d'oro questa era buona lo vabbè o' wo Ora, dobbiamo fare, dobbiamo fare, dobbiamo fare la bomba, ma non possiamo perché ci serve un libro. Dobbiamo andare da lui, dobbiamo andare da lui, dobbiamo più avvicinarsi a lui, dobbiamo in barca, che ce l'ho, se vuoi, seguirebbe un po' di luce. Perché non l'ha fatto, mannaggia. Non lo so. Au. Buona fortuna. Sto morendo di qualcosa, ha il Wither, ha il fattore Wither. No, 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 per me no, però, no. No, che c'è contro me? Porca troia. Oh, 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 come si ammazza questo qua, non lo fa aiutare. Dalla domanda, allora, dove stai? Eh, qui dove sta il simbiante. Ah, ok. Eh, c'ha dei cosi sulla schiena. Diventavoli. No, girano la schiena già. Cioè, cosa for danneggiarlo sulla schiena? Eh, ma, ma vicino. Appena fate gli attacchi... No, si gira. Non riesco. Non mi muoio dalle fattore guida. Va bene. No, anche se non vivo, sono vivo, sono tranquillo, tranquillo, che ne posso fare. Il simbiante è anche la nostra cura. Mi sa che ha raccolto l'emm... Ah, no, questo è... Oh, oh, ho trovato gli zumbi corrotti. Possiamo curarci dalla middle sickness. Vai. Let's go. Io ho fatto un paio di colpiti dietro, hai visto? Vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Scappiamo subito. Ok, posso farne due. Ok, c'errò. Vabbè, stica, ho due crafting table. Allora, uno... Mela d'oro, diamante e... Questa qua. Ok, eh... Hai una mela d'oro, una... Diamante? Sì, tieni. Dammelo. Oh, è crota. Ok, io sono curato. Ok. Tieni. Tieni, dove sei? Tieni questa qua. Mangiala. E scappiamo subito. Curato, curato. Ho bruttissime tosse. Ma che tosse, mamma mia. Bruttissima. È quel pro del condizionatore. Abbiamo trovato un enchantment table casualmente generato sotto la lava. Assolutamente incredibile. Casualmente. E adesso, chissà perché possiamo incentrare la nostra armatura in diamante, che non avevamo cinque secondi fa, ma adesso si... Come si è? Dammi il tuo corpetto. Immagina che adesso non è la lava. Vieni. Vieni. Hai qualche altro pezzo di redrite? Ce n'è uno. Ciao. Voglio vedere quanti ne abbiamo e vediamo cosa riusciamo a fare ancora. Bene. Ultima cosa prima di andarsene. Che è importantissima. Ok. Quel diamante la su stuzio troppo. Per farci una battaglia. Per regarci. Esatto. Eh, che è chiaro, l'ha preso. Quanto grosso è diventato? Orca troia! Ok, non l'avevo visto. Quanto grosso. Aspetta, distrailo. Vai, vai, bravissimo. Bravissimo. Ho avuto un po' di vita. Eh sì, ho scattuto il terzo... Ok, l'ho beccato. Ok. L'ho beccato. Io lo leggero. Ma sbalzato. Beccato? No, c'è l'incirato. Ok. Mi manca poco, eh. No, mannaggia. Mannaggia, non riesco a capirlo. Oh, non posso capirlo. Oh, ecco. Ultimo colpo. No, non è vero. Fresco! Occhio, occhio, occhio. C'è la parola. Esplode? Esplode. È una taxe propagata, questi, questi zombie. Vai, dai, tempo. È grosso come il mondo, c'è. Ok, l'ho fatto. F-bomb, eh, lo sapevo. Oh, cazzo, sta già attichettando, sta già attichettando. Poi sta attichettando? Sì, abbiamo 590 secondi. Ok. Però posso velocizzare la cosa. Devo andare sotto di lui e poi allontanarci fortissimo. Oh, cazzo. Questo potrebbe essere un problema. Voglio sapere cosa succede se esplodere nell'inventario? Però non voglio aspettare 500 secondi. Quindi, sei pronto? Sono pronto. Vuoi avere gli onori di casa? Ok. Attivo, semplicemente? Vai. Accedi là. Fatto. Andiamo via, andiamo via. Tu corri, vai via da qui. Oh, no. No. Amore, male. Abbiamo rischiato. Eh, potremmo morire nel frattempo. Andiamoci, andiamoci, andiamoci. Tu corri lontanissimo, tu corri lontanissimo. Questa roba esplode. Aia. Ok, qua, perfetto. Oh, cazzo. Oh, santo Dio. Che sta succedendo? Ok, è caduto? È caduto. È caduto. Let's go. Wow, ho fatto proprio il rumore della... Ah, yeah, della... Hai capito? Ok, easy, easy. Vedi, ti ho detto, roba facilissima. Tra le resti... Le resti... È rimasto... Wow, oh, è come un blocco. Da sotto. Bellissimo. Andiamo. Ah, hai del cibo? Oh, panini me le doro. Tieni. Eh, sì, me le doro. Carole d'oro, tieni. Ah, hai del cibo? Tieni, tieni. Grazie. Gentilissimo. Eh, è bella sta che è bellissima sta cosa. Si è divisa a metà, praticamente, cioè in tre. Bellissimo. Tutto sto fuoco, mannaggia. Con il comandolo, come a che serve? I tentacoli di nuovo sono fighissimi. Eh, niente, dovremmo poterlo distruggere, ma... No, c'è uno scheletro. Dove dire che... Perché si sta ricreando? Scappa, scappa! Non riesco, non riesco, non riesco, non riesco! No! Non credo sia normale che faccia sta cosa. Oh, si è attivato! No! Oh, cazzo! Perché si è riattivato? No, mi sta succhiando già! Ma sono... No, sono tre adesso, no! È ancora più grosso, è ancora più grosso! Abbiamo fatto solo danni! Cioè, adesso... Abbiamo fatto una cazzata! No! Cioè, adesso ne siamo tre di bombe? Mi hai preso. Eh, no, adesso serve un simbionti, dobbiamo fare una roba strana e poi entra nella sua testa. In teoria. E guarda un po' che se facciamo. Uno. Eh, questo lascia me la prendo io, grazie. Common block pickaxe. Aspè, come sarà? Andiamo a mettere la seconda mano, la mette a postare lo scudo. Vorrei che ti dessi una mossa a diventare più grande, cioè... Allora, dobbiamo solo aspettare adesso per quello che ti dicevo. Dove sei? Sto arrivando. Eccle, eccle. Ok, ce l'ho a carica, eh? Vieni, andiamo. Vieni qua. Eh, dobbiamo solo aspettare. Poi ingrassato. Ma poco poco, poco. No, qua c'hai, non è acqua. Mi sa che ci ha visti e ci sta colpendo. Se mi succhia non mi dispiace perché comunque devo andare là sopra. Ok, e che cosa vuoi utilizzare? La... Sì, la palestra. Ok, dentro ma c'è la mia mano? Sì. Ha preso? Ho tre teste su ogni lato, cioè su ogni coso. Sì. E guarda là sopra c'è un buco. C'è un buco. Dobbiamo entrare in mezzo a quello più grosso. Dobbiamo lanciare l'ender per la sopra. Io provo ora. No, no, non basta. No, sì, invece. Sì, è bastato. Eccora no? Ci provo? Ci vado. Oh, cazzo. Eccoci. Siamo dentro di lui. Sì. Questa sono delle scale. Questi che sono spawner. Che cazzo? È una spawner. No, 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 no. Oh, oh. Sono delle scale qua sopra. Oh, magari. Oh, oh, oh. Au, au. Ma da dove? Acqua? Sì. Di morti appesi. Ah, a destra vedo gli altri alberi. Sinistra al ruoto. Oh. Allora. Eccolo. Cosa? C'è un command block. Qui. Oh, eccolo. Eccolo. Aspetta però, qua ci sono gli alberi. Io voglio gli alberi. Vedo le teste. Una a sinistra e una a destra. Ok, aspetta. Eccomi. Hai dei blocchi? 26, sì, un po' sì. Io no. Tieni. Da questa stabbia ha gravità, sì, cazzo. Va bene, va bene, grazie. Ok. Il command block. Ehi. Gli diamo un colpetto solo. Ok. Potrebbe essere la nostra ultima speranza, praticamente. Vai a avere gli ori di casa? Ok. Vado, eh. Vai, colpisci. Oh, cazzo. Mi hai spinto in nero? Mi hai lanciato via il cosa. Sì, 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 sì. Boss, fight against command block. Eh, sì, eh, sì, eh, sì. Sì, questa cosa si difende bene. Purtroppo ne abbiamo un'altra. Eh, vabbè. Se magari me lo givano, loro, niente. Eh, ma non possiamo fargli danno con l'arco. Deve essere quello command block. Ok, proviamo a salire ancora un po'. Ha colpito! Ha colpito! Si alzacare più. Ci sta alzando ancora. No, si è alzando. Oh no, oh no, oh no. Oh, mi ha preso? Devo uccidere questi qua. Se no, se no, l'ho preso. Ok. Si sta alzando ancora. Ultimo colpo. No. Oh, cazzo. No. Si sono sbagliate le teste. I mob sono ancora più forti. Ok, mi ha lasciato. No, ero sopra. Fatto! L'ho rotto! L'ho rotto! Ah, mentre... Ha colpito a me, ecco perché. Ok. Ok. Sono usciti? Ok. Ce l'abbiamo fatta stavolta. Ok, sta accadendo probabilmente tutto a pezzi. Sta accadendo a pezzi. Oh, oh, oh. Ce l'abbiamo fatta? Oh, la Witherstar. La Witherstar. La Witherstar. La Witherstar. Mamma mia. Ce l'abbiamo fatta. Cosa abbiamo lasciato indietro? Devastazione più totale. Mamma mia. È incredibile. Prima su tutta la voltiglia. Andiamo, io la vedo un po' più da vicino. Sì, la voltiglia di quel coso lì. Sarebbe figo se diventasse praticamente una specie di bioma. Dove è morto lui? Sì. Scheletri. Eccoti laggiù. Dove sei? Sto saltando? Non ti vedo. Oh, eccoti, sei là sopra. No, no, qua, è tranquillo. Ce l'abbiamo fatta. Finalmente.